salve youtube benvenuti in questa nuova puntata di heroes of the storm oggi affronteremo il nuovo campo di combattimento eterno conflitto nella compagnia c'è tutto lo staff di gta del condominio sanji agos e michael vediamo un po in che cosa consiste questa nuova mappa si bisogna distruggere il nostro mortale alleato il mortale che vivos ci unisce a noi e distruggi forti pratica non ho capito vediamo vediamo un po cosa viene fuori ma questa qua mica la mappa che c'è su warcraft quella lì dei pennutacci è praticamente il è un misto tra il paradiso celeste e gli infetti ammigianti eterno conflitto in pratica ma questo sembra una cosa distanza si ma c'è su diablo qua allora hai detto il talento quello di super power due oh l'ognomo c'è ancora eh solo una volta i live pack funzioni ah sono due linee sono i ragazzi eh o sopra o sotto l'avete già fatto? sono qua? no io ho soletta praticamente c'è un angelo e un demo noi siamo l'angelo mi sembra adesso noi siamo l'angelo si ragazzi bisogna di tutto sopra eh perchè non sono da solo e sai come avrei tutto che no è invisibile che fai the war power ma no michael no 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 non si gioca così non devi mai andare in culo alle torrette vedi che qua se ti viene fuori un occhiello guarda la mia vita eh urca ma non ci sto spero di culo vabbò si no aia 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 ma gli altri sono dei cattivi oh io adesso Reynor sale sempre di livello a bobo sale di livello come salita come salita prima uguale e qui tu puoi tirai è arrivato vale qualcun altro siete pronti eroi ci avviciniamo alla vostra posizione si ma non mi sciocca eh tu si sciocca io gli sparo da tre quattro noi che che abbiamo? e purerò il tuo male da questa terra andiamo a uccidere quello noi abbiamo l'angelo praticamente il nostro è il nostro andiamo a uccidere il demone esatto mi aiuto faccio il cerchio eseguo ok io vado gianni sposta il male la speranza vede poi no ecribio sto il demone è me no? no ma si spatterà di cerchio non dovete stare nei cerchi e subito luca spostati eh a trovare questa strada è morto cazzo no mi è morto guarda la sua vita la rossa e la nostra è verde adesso vado all'altra parte va sopra oh no mi vuoi morire va becchiavi grazie oh ho vinto il coso no mi vaga adesso il gioco sta lento qual'è il secondo? eeeh uno oh cacchio va partendo da un po' ma adesso che sto facendo si sta rispettando adesso praticamente si unisce si cura e si unisce alla linea ah gli diametri del signo e i nuolino delle due linee oddio cos'è sto qua? c'è un gigante c'è un gigante c'è un gigante lo credo c'è un gigante c'è un diavolo qua che con una spada gigante c'è una bestia c'è una bestia c'è una bestia c'è una bestia c'era ci sono tutti ok e cu revolta ieri scappa oby c'è sia è una bestia è una bustina ah no che cavolo we lho stunnato ma guarda quanti cazzo solo ma e se sono tutti sopra noi andiamo sotto allora mangiai mercenari nuovi l'idea l'hanno distrutto sui forum non fa più niente non fa e adesso l'hanno leggermente depotenziato ed è eufemistica la cosa ora iniziamo ad appostarci il nostro forte è perduto peggiti dinnanzi alla mia collera adesso il controllo è giusto sempre il demone di picchiare il nostro è sempre l'angelo bisogna essere andato su world of warcraft seguiamolo bello sta minando di qua vedi che non capisco la funzione del gioco non è di go of legend questo ok amico angelo vieni dacci la mano va ok va sopra l'immortale aliato si sta preparando cos'è quello che dove veniva ad affrontare con noi al centro il tuo spirito è forte il tuo spirito è forte canone orbitale sincronizzato ricevuto No ma c'è il vantaggio che dopo un po' che non la meno diventa invisibile. No ma a me mi rallentano i nemici perché hanno le abilità di rallentamento oh tutti qua via 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 Andiamo sotto sono tutti quei sopra sono loro andiamo sotto no Infatti stavo andando aspetta aspetta Michael rimani con me ah vuoi fare lo scemano prima No che qua c'è è uno scemano questo Andiamo sotto che ho testo il vantaggio va Michael vieni in comando andiamo a sacrificarci dai Già fatto anche sotto Guarda che prendi il cavallo No prendiamo anche l'altro scemano a sto punto prendiamo tutti no Ragazzi no Michael non andare vai sotto con gli altri Va bene Oddio Angel lasciamo stare noi ce lo facciamo a fare Andiamo qua Mi muovo Mi muovo Vabbè Ame lascia i rire non copia l'hai tirato Sto arrivando? Vai con lo spettacolo pirogettico Mi muovo Chi mo se stazio i due Mi è mandato l'eroglio Mi ha fatto toccare una nuova posizione Abbiamo perso una frontezza Mo se veniamo al centro Gli maciollini oh Nooo Il nemico sta attaccando il nostro vinto Occhio cecchio Chi è di? Sto morendo Sto morendo Abbiamo vinto Abbiamo vinto la base del cure Subito in base Subito Il nostro nucleo è sotto attacco Ben fatto Fortezza distrutta E c'è una Zevo spara culo Mi muovi Quanto coraggio Centro sempre il bersaglio Segui Segui Raga uniamoci a loro Cazzo Ti scemano C'è lavoro? Sì Due navicelle che mi seguono Le Banshee Puoi indirizzare i suoi nemici O sulle strutture Eh Che morta Che lì Io che morto No Sei curata E io Scemano Oh cazzo No Ci penso io Meglio se ti attacchiamo una forza Cazzo Immaginio E solo questa mi ha messo? Come una fiamola? Si Solo questa per ora Preferiamo aggiungerne un'altra Adesso Siamo praticamente nel muco qua sopra Siamo qua insieme a tutti gli altri che distruggiamo un po' Oddio meno ucciso Oddio ci hanno ucciso tutti eravamo davanti al forte e ci avevamo bastato C'è problema abbiamo iniziato a indebolire adesso ricarichiamoci, stioniamo su e prendiamo i riusciamo a prendere i uccidere di me esatto ho ricevuto arrivo hanno migliorata comunque la isti mai detti no 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 cosi non va bene cosi eh calma e gesto così non va bene eh lo visto di ritardo fanculo si spostano quello che mi aspetta non supporto ma ma ecco la senti senza il mi piace poi quale lo spettacolo io andavo io andavo io ando so ci sono mi l'altro è uno solo adesso vedi calioni giganti sono passate va sotto il nostro amico no poi il bello è che comunque diversamente dalla mappa della miniera non va tu sempre in una linea sola va sia sopra che sotto vedi che è stato avanti e indietro mi muovo ho ucciso una tribo ma boh ho ucciso una tribo ok e il paradiso ha vinto ma non lo so probabilmente è un easter egg alla diablo ho in mente non è veramente qualcosa ok signori appuntamento di oggi per finire qui il vostro video è tutto e da tutto il team è tutto bye bye ciao mai più ilivan mai più